Continua la nostra zingarata di pesca in Trentino Alto Adige. Partiti dalla Valle Aurina, con poche alternative per lo spinning, ci spostammo in Val di Fiemme per una pescata da incorniciare sul torrente a Visio. Dopo un digestivo serale a base di coda 3, la colazione del giorno dopo ci andò per traverso. La terza tappa, quella della riserva di L'Avis sulla Visio, inciampò in un problema di prenotazioni mandando a monte l'uscita. Ma di brutto brutto brutto! A malincuore perciò decidemmo di studiare un'alternativa. Saremmo partiti dall'Avis e durante il rientro avremmo pensato ad un piano B per salvare la giornata. Il nostro cameraman però ci fece notare che a stomaco pieno si pensava meglio. Perché anche se non abbiamo preso nulla, adesso ci sfondiamo. Bisogna reidratare i sali e tutto, reintegrare i sali. A te invece dei sali non frega assolutamente nulla. Hai visto quel cartello Canederli, Gulas? Si può dire di no? No, 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 ma di fatti poi... Che cosa hai da dire? Niente, io mangio, altro che... Buon appetito a me, eh? Sicuramente buono, sicuramente buonissimo. Buon appetito anche a tutti voi.